Senatore Dell'Utri, l'ultima domanda. Ma come finirà la storia personale e politica di Silvio Berlusconi e come finirà l'Italia? Qui le dovrei rispondere con un ragionamento ma penso a una poesia che è quella di un grande poeta, Eugenio Montale. La poesia si intitola L'imprevisto e recita testualmente Un imprevisto è la sola nostra speranza. Però aggiunge tra parentesi un altro verso dove dice ma mi dicono che non è una bella cosa. Grazie Senatore. Prego.